Facciamo una prova con Gian Morizzi. Pensiamo che hai scelto come location per il tuo matrimonio all'Unito, di Venezia, oltre al Censu, non c'è che siamo un po' fuori della spesa che abbiamo qua qui? Ah, non so cosa stai pensando, povera ragazzina ricca che ne sa lei della miseria, povera ragazzina ricca che ne sa lei della miseria. No, si, 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 mi dico di tutti. Ti voglio dire, e ti voglio dire... Io sarei il tuo wedding planner. Capito? Un intero mondo in cui vivo, tutta la gente che mi fa parte, e di Venezia e di Venezia che si trattano avanti, e di Venezia e di Venezia. Giustamente. Io sono già stato bene, che non mi piace che è fatta male, capito? Non solo, perché l'intero mondo è così, e tutti avete saputo in questa spazia, e qui che poi troviamo. Sì, è meglio il pieno, sì, è vero? Stiamo anche chiamando i segreti dei doppiatori, questi segnacci che fanno sui polvi. Di STV, barbetta, chissà cosa vuol dire. Di spalle. Di spalle. Di slasho sono padre. Di slasho spassa, sì, io faccio tutti. Di slasho spassa, sì, io faccio tutti. Grazie. Grazie.